Eccomi qua a darvi degli aggiornamenti riguardo a Chiara Gualzetti, la ragazzina di Monteveglio che è stata uccisa da un coetaneo, del quale lei si era semplicemente invaghita. Al contrario lui non la sopportava, non tollerava il fatto di sentirsi stressato dalla sua presenza e per questo che come è stato riportato dalle immagini delle videocamere, lui avanzava con un passo del capobranco davanti mentre lei indietro di qualche passo lo seguiva. Le sensazioni infatti si vede che sono opposte, lei verso di lui e lui contro di lei, lui nauseato, lei invaghita, lei pensa ad un bacio e lui invece al coltello che ha nello zainetto, lei la abbraccia e lui la colpisce. Se fosse sufficiente pensare che potrebbero essere dei genitori separati a far riconoscere l'infermità mentale in un minorenne che è arrivato a compiere questo gesto così violento, si potrebbe dire che tanti sarebbero considerati patologici. In realtà però il concetto del GIP e del Tribunale per i minorenni ha ben compreso che prima di riconoscere la totale capacità di intendere e di volere del ragazzo, in base alla richiesta avanzata dalla difesa dello stesso, sarà importante cercare di capirlo meglio. All'inizio lui infatti aveva dichiarato di aver avuto delle voci dentro di lui che lo invitavano ad ucciderla, ma in realtà non è mai sembrato che questo fosse vero, nessuna forza paranormale, nessuna patologia psichiatrica l'avrebbe guidato in questo suo folle gesto, ma semplicemente la volontà omicida appare chiara, lucida e premeditata. Secondo un profilo psicologico lui sembrerebbe invece avere gli stessi comportamenti di un narcisista patologico maligno, egocentrato e alla ricerca costante di ammirazione degli altri. La parola chiave qui è praticamente diritto, diritto automatico ad essere trattati bene, a prescindere dal modo in cui si trattano gli altri. Senza nessun segno di pentimento per quanto è accaduto, si è presentato davanti a carabinieri con degli occhiali con delle lette a contatto rosse, dimostrando così come i manipolatori per eccellenza di concepire se stesso come un re dotato di uno spropositato senso di potere, come se nulla e nessuno avesse importanza al di fuori di lui, come se i carabinieri fossero stati lì per essere il suo pubblico, per ascoltare quanto fosse stato grande. Per questo ha indossato questi lenti, per non correre il rischio che non gli venisse prestata abbastanza attenzione, come se spezzare la vita di una coetanea con una tempesta di coltellate non fosse sufficiente. Si è posto su di un piedistallo al punto da ritenere che Chiara non potesse morire senza il suo contributo e lo ha dimostrato rispondendo al messaggio in cui lei scriveva «Se mi uccidessi non mancherei a nessuno» con la frase «Ti do una mano io, se proprio vuoi». Il killer ha scelto quindi una preda sulla quale poteva lavorare senza particolare sforzo. Chiara, infatti, era già stata vittima di bullismo, quindi rappresentava un soggetto potenzialmente più semplice da disprezzare nei sentimenti, il bersaglio ideale per riempire la sua fama omicida. «Con qualcuno dovevo farlo, ho scelto lei perché mi stava sempre addosso, mi aveva scocciato, non la sopportavo più, mi stancava». Il killer, freddo e imprevedibile, ha visto nella quindicennia uno strumento attraverso cui esercitare la propria volontà, quella di ucciderla. Ancora, il quadro generale della sua vita denota la mancata affermazione della propria personalità nelle relazioni sociali, il killer cercava credito e consenso nel gruppo dei pari o sui social, un consenso che riteneva meditevole di ricevere e di avere, ma che in concreto non è mai arrivato. Questo è il motivo che lo ha indotto a mandare un messaggio vocale all'amica per celebrare quello che lui aveva fatto. E la colpa di Chiara? Quella di essersi innamorata di lui, un torto intollerabile, subito e inaccettato. Una sola certezza, sebbene gli eccessi del male spesso risiedono nel campo del non indagabile, Chiara è stata uccisa da un soggetto pienamente capace di intendere e di volere, che ha programmato nel dettaglio quanto commesso e che si è imposto fragorosamente come protagonista al centro della sinistra scena. A questo punto, però, anche le esigenze di argomentare su un'eventuale evitabilità di un delitto così efferrato. Chiara poteva essere salvata? Certo è che gli scatti di rabbia che il ragazzo aveva mostrato in famiglia avevano determinato i genitori a rivolgersi ad un professionista. In quest'ottica, però, resta incontrovertibile il dato per il quale nessuno, fino al giorno dell'omicidio, aveva compreso il disagio emotivo che l'adolescente stava attraversando. Dunque, per chiarire la sua posizione ed escludere che abbia avuto a sua volta un passato di violenza, sarà necessario attendere l'esito della perizia psichiatrica. Ovviamente, qualora la relativa richiesta venga accolta dai magistrati. Alla fine, quel che appare auspicabile è che l'omicidio di una ragazza con tutta la vita davanti non venga relegato ad una brutta pagina di cronaca, una delle tante, una di quelle che si scordano dopo qualche giorno, quando non se ne parla più. Chiara aveva solo 15 anni. Devi essere assolutamente fatto qualcosa affinché certi episodi non si ripetano. Vi ringrazio per l'ascolto. Esprimete pure la vostra opinione. Io ogni volta rimango veramente addolorata davanti a questi episodi, addolorata sia per la vittima, prima di tutto per la vittima, per i suoi genitori, per i familiari, ma poi anche per questi ragazzi così violenti, che sono ragazzi comunque malati. Sono ragazzi che avrebbero bisogno di essere seguiti, ma mi domando tante volte se ci sono degli adulti in grado di farlo. E non mi riferisco soltanto ai genitori, ma anche agli specialisti, ai medici, che dovrebbero essere in grado di fare qualcosa in più, ma che nella maggior parte dei casi invece tendono soltanto a riempirli di farmaci. In questo modo quindi fanno altro che rendere ancora più difficile la loro situazione e la loro vita. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito ad iscrivervi al canale se trovate i miei audio interessanti.